Ciao a tutti, allora eccoci qua, nuova recensione, è un nuovo film, è uscito, diciamo da poco, è uscito al cinema, non appena, ed è un film che io attendevo, attendevo un po', da quando è stato presentato in estate, alle giornate estive di Riccione. Ecco, è un film per me che, cioè, di un maestro che io adoro, adoro questo maestro, adoro i suoi film, adoro lo stile dei suoi film, adoro proprio gli attori anche che utilizza e riesce a, come posso dire, a fare il film, a recitare attori, a dare il meglio di sé, di questi attori, facendole recitare in un loro film, e vabbè, abbiamo capito chi è, Woody Allen, signori, Woody Allen, che è uscito, il suo nuovo film, al 28 novembre, al cinema, siamo in periodo natalizio, ci sta, Woody Allen, al cinema, a Natale, ci sta, ci sta, ecco, prodotto da Lucky Red, ed è un giorno di pioggia a New York. Allora, si ritorna, diciamo, agli origini di Woody Allen, cioè, origini, ma più che altro, diciamo che è più una sua passione, è una cosa che a lui piace fare, ed è girare a Manhattan. A Manhattan, è uno dei suoi posti preferiti, e poi, lo sappiamo, che lui era un grande appassionato degli anni 30, e usa nei suoi film lo stile proprio anni 30. E poi, chi se lo ricorda bene, chi ha seguito Woody Allen, sa che i suoi primi film erano in bianco e nero, però, usa sempre lo stile anni 30, film anni 30, ovviamente, in questo caso sono parlati, hanno i colori, e tutto. E la fotografia, ogni inquadratura, è spettacolare, è un qualcosa di particolare, Woody Allen riesce a fare sempre delle immagini che sono dei capolavori. La storia, che cos'è? La storia è una storia semplicissima, è una commedia sentimentale, perché a lui piace fare queste commedie così. Purtroppo, secondo me, è molto sottovalutato, ma non anche da diverso pubblico. Purtroppo, non so perché, però viene sottovalutato molto. E niente, è una storia di questa ragazza, che è interpretata da, scusate, devo ricordarmi il nome, L. Fanning, attrice giovanissima, non male, va bene, ma con Allen. Nessun attore, nessun attore stona, come vi ho detto prima. Lei interpreta questa giornalista, questa giornalista che a un certo punto gli viene data la notizia che lei ha un'intervista con un grande regista, uno dei registi più famosi, mi sembra che sia anche francese, il regista, mi sembra di sì, adesso non vorrei dire una cavolata. No, neanche, boh, non mi ricordo, mi sembra, vabbè, è un regista famoso, l'ho interpretato da Liev Schilber, magari, i nomi adesso non mi dicono nulla, ma adesso vi dico, lui è famoso per aver interpretato film, cioè, è stato nei film dove, tipo, Un maggior domani, Casabianca, oppure Soldi, Angelina Jolie, o anche X-Men, insomma, lui è uno, un uomo d'azione. E poi, niente, questa, vi dicevo, la ragazza ha questa intervista a New York, quindi che fa? Il fidanzato, dice, va bene, andiamo a New York, si fanno i progetti e tutto. Purtroppo i progetti vengono stravolti, perché la ragazza decide di restare con il regista, ma anche perché tra lei e questo regista scatterà anche un'attrazione, un'attrazione particolare tra di loro. E tutti i piani vengono stravolti. Lui, invece, cerca disperatamente di trovarla, no? Di andare a cercare la sua ragazza, ma a un certo punto trova un suo amico che sta girando un film e dice, vieni, vieni, ti faccio fare una parte, lo mette dentro questa macchina, quest'auto, e dentro c'è una attrice, ma diciamo più cantante, ed è Selena Gomez, che interpreta Shannon. E lì, la città è fantastica quella scena, e anche per varie parti del film. E poi, diciamo che mi sa che mi fermo qua, perché poi la storia continuerà a rovesciarsi, mano a mano che va avanti. Quindi, non vi giuro niente, e vi dico, andate a vedere questo film, se siete passati a Woody Allen. Allora, per adesso è distribuito in 428 copie. Quindi lo trovate, lo trovate, è sicuro. Vabbè, se andate in molti sala, lo trovate sicuramente. Nei cinema, quelli un po' più piccoli, dovete un po' guardare in giro. Cosa c'è? Comunque, è un grande film, per me lo è stato. Mi piace, adesso magari lo rivedo, voglio rivederlo, magari andrò al cinema a rivederlo, perché è piaciuto molto. Per me Woody Allen è uno dei più grandi maestri del cinema, che rimane ancora. E quindi, ogni film che fa, secondo me, per me, è un capolavoro. E diciamo che questo, come vi ho detto, questo capolavoro non vuol dire che questo sia il più bel film di Woody Allen. No, assolutamente. Questo film è uno dei capolavori di Woody Allen. Perché, sinceramente, non ho mai visto un film brutto di Woody. quindi, dire che questo è meno bello o più bello di altri, è brutto anche dirlo. E fa parte della sua filmografia, fa parte della sua storia, fa parte della sua carriera. quindi, è un film che, secondo me, va visto e rivisto bello, veramente, veramente bello. E io, come vi ho detto, ve lo consiglio, assolutamente andare a vedere questo film al cinema. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!